Dovrebbe essere lui quello Secondo me servono un segno Quella grossa per fare le fotoserie Che è stato? Non è che ha toccato il tasto? O sennò prendere un cellulare Un paparazzo Una spia? Non lo percepisco Adesso dico una cosa Che è una cosa Io dico un'altra cosa E lì Ti vorrei fare l'errore Con una cosa eccezionale Sei di uno Infatti ti è usato dai professionisti Mi diceva quando ho fatto Qui? Qui? No, non sento niente In questa casa Zero Quanti anni avete qua? Quanti anni sei qui Massimo? Sette Che conserva le formazioni originale C'era un colore A livello energetico E poi No, mostra Abbassando Vado dentro Io ci sarò E l'altro Già fatto? Perché la mia Già fatto Franco C'era un colore C'era un colore C'era un colore C'era un colore Con una mia amica Questa persona ha fatto Come si diceva? La struzzata 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 Io sono stato sprendata Ho venuto per Svegliarle E poi E' arrivata Altra mia collega Con un cioio Ho fatto Massimo Con un progetto E lei Forse era più positiva Per questa persona Anche lei Ha segnato Che a lei Come se Si è stata C'era una persona Che faceva un giro Nel salone E diceva Ma Stai zitta Sì, sta dormendo ma io devo finire le cose prima che lei si sveglia. Tu l'avevi mai sognata questa persona? No, lui ha detto a mia amica, lui ha detto nel sogno, lui semmai mi vede ma io ci sono qua per Sistemare le cose io devo finire prima che lei si sveglia. Pazzesco, e da lì io deciso di cambiare la parte mia. Anche questo è ramativo. Pazzesco, ma no veramente. Tu che hai detto queste cose? Tanto. Sì? Posso scrivere gli Odomina che ci ha parlato dei fantasmi? Sì, sì. Scrive tutto Enichelle, sta facendo una relazione della serata. E' un po' sciocco il nostro Presidente. Una casa a Piola. 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 Piola, una casa a Piola, devo scegliarmi. Ma non puoi, violazione della privacy. Scusa, hai il suo consenso. Ah, ma questa cosa è... Scusate. È di Maria Teresa Ruta. Ah, è di Maria Teresa Ruta. Forse c'è una cosa... La casa in effetti era di Maria Teresa Ruta. Ma questo non per pubblicazioni. Ma non mi viene niente la faccia. Non me lo ricordo. Noto mostro della televisione. Sì. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Aspetta. Stava proprio il giornalista sportivo. Sì, vi dà anche lui. Sono chiacchiere queste. Non mi viene il nome ma niente la faccia. Questo sì. Perché è arrivato. Sì, posso fare. Vai. Allora, c'è questo oppure... Sì, questo. Per un coltello. Un coltello, sì. Coltello? Ah, no, aspetta. È arrivato un nuovo collega che è responsabile di marketing. Lui è spagnolo, metà spagnolo, metà inglese. Una persona abbastanza interessante. Poi lui ha fatto direttore di marketing per me. Cavolo. Anche un'azienda molto avanti, Diesel. Ah. Cosa ha detto? Quindi era in Veneto lui. Lavorava in Veneto. Sì, sì, sì. Ma mi sembra che a Milano... A Milano c'è? ...fanno come ufficio. Ah, forse marketing magari. Non fare quello che preferisce. Grazie. E quindi lui è arrivato e adesso invece di dire salute dico Jesus, perché in spagnolo è Jesus. Jesus. Sì. Vuole il saluto? Gesù. Vitti. Fammi vedere... Ma italiani ce ne sono oppure... Ci sono. Ci sono, ci sono. Però è abbastanza, c'è di persone di strada. C'è una mia collega dal market in strada che è serba. Poi c'è un progettista design in Australia molto bravo. Ma lui come metà spagnolo, metà argentino. E basta, c'è un direttore francese. 26 gennaio. Ma dov'è questo? Questo tutto nella mia azienda Artemide. Sì. L'India questa. Ah, è così tutto internazionalizzato? Ma... a lei piace... Scusate, ferma immagine della telecamera, Michi. Sì. Faccio vedere... Si, posso... Lei piace conoscere la gente. Ma lei come persona di persone è abbastanza dura. Diciamolo. Io ce l'ho scelta. Esigente. Questa è il credetta che fa lavorare a notte. Poi c'è tutto il panorama. E' tutto a fuoco. Da qua, dalla mano, alla in fondo. Non possibile. E' un obiettivo bellissimo. E quindi lei fa lavorare dopo del lavoro extra. No? No? L'hai fatta con questa? Sì. La gente che ho... Questa è la mia vecchia occupazione. Cioè, i bianchi sono bilanciati. Cioè, se ci penso a una cagatina di macchina, ha tutti i settaggi. Dopo potresti settatela per i bianchi. Ma non lo so fare ancora. Cioè, volendo tu puoi dar ferma immagine. Ma non ci farà? Sì, no. Tu guarda la ferma immagine. Cioè, la ferma immagine è una foca. Ma lei comunque, come creatività... Basta, buttiamo via l'olio. Molto piattino. Molto grazie. No, ma è bella. È bellissima. Io prendo, eh, ragazzi. Io lo vado senza... Quanto costa? Però è interessante, no? Come persona. Cioè, stimolante. Oggi l'ho vista in internet anche 340. La Black Edition è 450. Perché se sei troppo vicina... No, ma tu guarda che adesso è bella come ripresa. Sì, molto. Ah, è formato così quadrotto? Questo perché è l'alta definizione. Poi puoi fare il 1080 che è quello... Una ripresa che facciamo oggi. Ma non parlate del libro? Non parlate del libro? Presidente, mi raccomando. Presidente? No, è bella. Bellissima, sì. E non vedo lui provarla sott'acqua, Max. Io prenderei per quello. Perché sott'acqua è bellissima. Quest'anno andiamo tutti a fare un'immersione. Le foto sono belle. Ma la ripresa sott'acqua deve essere... No. Dalla spiaggia entriamo e ci facciamo una bella immersione. No, ma quest'anno veramente... Cioè, è bella come roba. Hai fatto i quadrucci? Cioè, da un individuo immagino è bella, no? E poi con i 60 fotogrammi... A te piacciono il libro? Io non l'ho letto, tieni conto che questo giro... E poi... Hai te piacciono? Sì. Hai letto in inglese? No, non ho trovato.